pace bene a tutti con ringraziamo veramente gesù oggi leggeremo gli ultimi numeri della de verbum speriamo tutti quanti anche se non sono molti sono soltanto cinque numeri però veramente sono di una bellezza e di una preziosità che non so se riuscirò a farli tutti perché la cosa importante non è fare tante cose ma è gustare in cristo profondamente le cose che si fanno affinché veramente penetrino nell'anima e diventino nostre allora consacriamo tutta la madonna perché oggi veramente leggeremo delle cose questa questo primo documento che abbiamo fatto del concilio vaticano secondo è e vi ricordo che lo spirito santo ha detto attraverso i papi che la nuova pentecoste è legata all'attualizzazione del concilio vaticano secondo se noi vediamo che nella chiesa ancora non c'è un fiorire come vorrebbe lo spirito santo è perché ancora non si mette in pratica completamente tutta la ricchezza contenuta nel concilio vaticano secondo ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen grazie spirito santo manda veramente san michele con gli angeli perché queste parole siano parole come dice oggi la scrittura quando dio parlò ad elia parlò in una brezza leggera non era nel fuoco non era nel terremoto non era nel vento cagliardo ma era nella brezza leggera ecco fai queste parole stiano come lo vuole proprio lo spio santo siano come una brezza serena leggera ma che veramente viene ascoltata come lì a che appena sentì la brezza disse ecco proprio capì che gli stava parlando dio e veramente il suo cuore proprio adorò dio e si mise in ascolto la partiamo dal numero 21 la sacra scrittura nella vita della chiesa sentite che meraviglia la chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di scritto per il corpo stesso di cristo non mancando mai soprattutto nella sacra liturgia di nutrirsi del pane della vita dalla mensa sia della parola di dio che del corpo di cristo e di porgerlo ai fedeli ecco qui c'è già sta prima frase che è incredibile la chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di cristo allora uno potrebbe dire ma come come le divine scritture sono venerate come il corpo stesso di cristo voi sapete che cosa significa questa frase significa che il corpo di cristo non viene venerato ma viene adorato allora la chiesa si può spiegare in questo modo allora gesù presente come verbo che parla nelle divine scritture viene adorato in quanto gesù che parla cioè il verbo che parla ai suoi figli e quindi dato che il verbo di dio viene adorato nelle divine scritture e così e gesù che è il verbo fatto carne invece nel corpo e sangue di cristo nell'ostia viene adorato in quanto corpo e sangue di cristo quindi è sempre gesù come dio che viene adorato nelle divine scritture e viene adorato in quanto verbo dio come come persona dell'eternità come verbo che parla attraverso le divine scritture che parla attraverso le sacre scritture mentre nell'ostia viene adorato proprio come corpo sangue anima e divinità no quindi infatti nella liturgia si dice che la chiesa si nutre del corpo di cristo e del pane di vita della che viene dalla parola di dio vedete quindi la chiesa adora il pane della vita che è contenuto nella parola di dio cioè il verbo che diventa verbo che mi dà vita quando lo ascolto le due parole sono spirito e vita e poi la chiesa adora non soltanto il pane della vita contenuto nella parola di dio che è gesù ma il pane della vita contenuto proprio nell'ostia come corpo e sangue di cristo quindi il pane della vita si riceve sia dalla sacra scrittura perché il verbo nella sacra scrittura si comunica all'anima e sia nel corpo e sangue di cristo perché cristo è realmente presente col suo corpo sangue anima e divinità no questo è molto importante quindi noi adoriamo gesù e poi il la sacro santo un concilium e spiegherà le diverse presenze di cristo no e dirà proprio che cristo è presente nella sua parola e per questo si adorano le divine scritture nel senso che si adora gesù presente nella sua parola come dio si adora in maniera eminente nel corpo e sangue di cristo si riconosce presente nel sacerdote che celebra l'eucaristia nel nel popolo che celebra insieme al sacerdote che presiede quindi ci sono diverse forme della presenza di dio nell'umanità e nella chiesa le forme più eminenti sono appunto nella santissima eucaristia nei sacramenti e qua dice proprio nelle divine scritture dove veramente dio si vorge come verbo cioè verbo è colui che parla è dio che parla infatti nella divina scrittura si dice nei documenti proprio del concilio che quando si legge la parola di dio la scrittura della chiesa è dio che parla e quindi nelle sacre scritture si adora la presenza proprio del verbo che attraverso le sacre scritture si comunica come abbiamo già detto si comunica nella maniera e nel modo diciamo che ha scelto lo spirito santo poi continua sentite che meraviglia insieme con la sacra tradizione la chiesa sempre considerato e considera le divine scritture come la regola suprema della propria fede e se infatti ispirate come sono da dio e redatte una volta per sempre impartiscono immutabilmente la parola di dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello spirito santo quindi vedete che nelle divine scritture noi adoriamo il verbo e il pane di vita come verbo che si comunica ma adoriamo anche lo spirito santo che si comunica e anche il padre si comunica attraverso perché se si comunica il verbo si comunica anche il padre lo spio santo che sono dio insieme col verbo no questo è molto importante e qua dice una cosa pazzesca dice che insieme alla tradizione le divine scritture sono considerate dalla chiesa come la regola suprema della propria fede questo è molto importante una cosa veramente incredibile e quindi come abbiamo già detto Cristo in quanto verità si comunica attraverso le sacre scritture e attraverso la tradizione e si comunica in maniera tale che la successione apostolica faccia sì che questa verità che Cristo con tutte le verità di fede con tutti i dogmi si trasmetta in tutti i tempi inalterata sia attraverso la scrittura che la tradizione ma quello che si trasmette Cristo in quanto verità quanto via verità e vita in quanto verbo fatto carne verbo che si comunica attraverso le divine scritture la tradizione verbo fatto carne che si rende presente nella santissima calestia è una cosa pazzesca sentite qua che dice è necessario dunque la predicazione ecclesiastica come la stessa religione cristiana sia nutrita e regolata dalla sacra scrittura questa è quindi vedete che la chiesa dice che non soltanto la predicazione ecclesiastica cioè non soltanto quando il papa i vescovi sacerdoti predicano ma la stessa religione cristiana quindi tutto ciò che ci viene insegnato a credere tutto sia nutrito e regolato dalla sacra scrittura questa è molto molto importante cioè una cosa incredibile cioè mamma mia che meraviglia guardate per questo io sto veramente predicando il santo vangelo il concilio vaticano secondo perché tutti sacerdoti laici vescovi il santo padre tutti dobbiamo nutrirci e sapere che la nostra vita deve essere regolata e nutrita dalla sacra scrittura come abbiamo sentito che dice san paolo nella seconda lettera a timoteo capitolo 3 versetti 16 e 17 2 timoteo 3 16 e 17 dice proprio ve lo leggo ogni scrittura divinamente ispirata e utile per insegnare per convincere per correggere per educare alla giustizia affinché l'uomo di dio sia perfetto e addestrato ogni opera buona vedete la sacra scrittura nutrirsi della sacra scrittura e regolarsi secondo la sacra scrittura fa sì che l'uomo sia perfetto in cristo e addestrato per ogni opera buona questo è importantissimo guardate quante volte eh dio parla attraverso una scrittura e rende perfetto e prepara una persona a un ministero se vi ricordate la storia di sant'antonio abbate sant'antonio abbate andò a messa mentre stava entrando sentì la parola che diceva se vuoi essere perfetto va vendi tutto quello che hai dallo ai poveri poi vieni e seguimi e sant'adanasio che scrive la storia di sant'antonio dice antonio come se per la provvidenza di dio quella parola fosse rivolta a lui in quel momento direttamente prese quella parola come diretta a lui la fece sua e si mise in cuore di metterla in pratica quindi di prendere tutto quello che aveva di venderlo di darlo ai poveri di seguire cristo infatti che cosa fece sant'antonio sant'antonio aveva una sorella aveva erano morti i genitori gli avevano lasciato tantissimi terreni era una persona ricca alla fece così ha venduto delle cose una parte l'ha data per la sorella per sostentarla e il resto l'ha dato praticamente ai poveri e proprio ha seguito cristo proprio su quella parola cioè guardate che cosa può fare un versetto della sacra scrittura ecco sant'antonio che cosa ha fatto l'ha ascoltato l'ha sentito suo e ha deciso di metterlo in pratica sono gli stessi passi che vi ho insegnato l'altra volta no chiedersi quale fatti insegna a me questo passo quale verità mi insegna a credere questo passo quale comportamenti mi insegna ad avere questo passo e che cosa mi insegna a credere sia sulla vita presente che quella eterna e sant'antonio l'ha fatto diciamo così in maniera intuitiva quasi tutte insieme questi passaggi ma alla fine il frutto era che lui si è chiesto cosa doveva fare in base a questa parola e poi sia per essere perfetto in questa vita che nell'altra e l'ha fatto quindi la scrittura porta frutto quando una persona dice che cosa mi dice questa parola questo mi dice e questo quindi faccio no questo amo e questo faccio perché la scrittura quando l'ascolta prima va amata perché dio va amato dio che ti parla e amandolo decidi di fare quello che praticamente ti ispira prima va amato e poi va seguito no questo è molto importante la scrittura porta frutto quando porta ad amare dio e a seguirlo infatti si dice beati coloro che ascoltano la parola di dio e la mettono in pratica è proprio semplice e chiara come la scrittura ma è chiarissima proprio una bomba poi dice nei libri sacri infatti il padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con essi nella parola di dio poi è insi da tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della chiesa e per i figli della chiesa saldezza della fede cibo dell'anima sorgente pure e perenne della vita spirituale perciò si deve riferire per eccellenza alla sagra scrittura ciò che è stato detto vivente ed efficace la parola di dio che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati ecco questa guardate questo passo mamma mia è veramente qualcosa da svenire di gioia partiamo spiegamolo proprio passo per passo nei libri sacri il padre con molta amorevolezza viene incontro ai suoi figli e discorre con essi vedete come dicevo nella divina scrittura il padre il verbo lo spio santo ci vengono incontro e ci parlano e noi li adoriamo presenti nella saga scrittura che ci parla poi continua nella parola di dio poi è insi da tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della chiesa vedete e la chiesa stessa si regge sull'efficacia e la potenza della parola di dio infatti san pietro dirà signore sulla tua parola getterò le reti e insieme con san pietro si può dire che tutta la chiesa dice ogni giorno signore gesù sulla tua parola getteremo le reti e poi continua e per i figli della chiesa saldezza della fede e cibo dell'anima vedete nutrirsi e regolarsi secondo la scrittura rende salda la fede ed è cibo per l'anima guardate non c'è niente che sfama come la sacra scrittura ci sono delle volte che la persona è triste oppressa nelle tenebre gli arriva una parola che gli colpisce gli occhi e l'anima e dopo si ritrova nella pace nella gioia illuminata è proprio vero che è efficace e potente la parola di dio poi qua dice ancora sorgente pura e perenne della vita spirituale mamma mia quindi vedete che il verbo dentro la scrittura è come la perla nascosta nel terreno ed è una sorgente pura e perenne della vita spirituale infatti gesù dirà colui che crede in me fiumi d'acqua viva scuoteranno dal suo seno ma uno si potrebbe poi chiedere ma questi fiumi d'acqua viva da dove vengono e qua lo dice la parola di dio contenuta nelle scritture è sorgente pura e perenne quindi vedi dei fiumi d'acqua viva perenni scorcheranno dal cuore di colui che crede infatti sorgente pure perenne della vita spirituale e poi dice perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra scrittura tutto ciò che viene detto vivente ed efficace la parola di dio quindi vedete è vivente ed efficace la parola di è vivente perché la parola di dio non è un libro è una persona è vivente gesù è vivo per questo quello che dice efficace perché è riempito dello spirito di vita che lo spirito santo e poi dice che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati vedete la parola di dio edifica cioè se per esempio tu sei sei po c'hai dei vuoti nella tua vita c'hai ma immaginate che sei come una casa e ci sono delle parti dei muri bucate bucate dalle paure dai dubbi da qualunque cosa mano mano che leggi la parola in quei bug che vengono messi i mattoni il buco viene chiuso e quindi tu vieni edificato e poi questa è l'ultima basta qua ci fermiamo qua perché vi spiega questa questa è una bomba proprio ho detto che alla fine solo un numero spieghiamo ma è una bomba la parola di dio può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati vedete che in cristo si diventa eredi ma l'eredità si riceve attraverso la scrittura cioè per esempio la scrittura mi dice che io ho un'eredità ma come faccio a sapere qual è l'eredità la comincio a leggere nella bibbia e vedo le verità che sono contenute nella bibbia per esempio leggo la verità che dio nella bibbia mi dice che mi vuole santificare questa è la meredità allora in cristo è una benedizione spirituale in cristo oppure leggo cristo mi vuole non schiavo ma libero quindi la mia eredità è la liberazione oppure leggo che gesù e quando sono nella frizione vuole che prego e vuole che spero nella guarigione questa sempre è una forma di eredità e tutte le verità contenute nella saga scrittura mi fanno conoscere qual è la mia eredità è come se io mi dicono sai che è morto un tuo zio un tuo zio però per sapere quello che tu hai ricevuto devi andare al notaio ecco allora io vado dal notaio e la trovo la saga scrittura perché perché san paolo dice quando muore quando muore la persona alla sua morte si fa un testamento e allora si diventa eredi la gesù è morto in croce dopo che gesù è morto in croce noi possiamo andare dal notaio con lo spirito santo e lui ci apre davanti la scrittura e ci dice leggi leggi quello che di dito ha lasciato ma lo sai che te l'ha lasciato proprio te tuo ecco lo spirito santo è il notaio è il notaio dell'amore di dio è il notaio dell'eredità divina quindi io adesso come faccio a sapere quell'eredità è mia io per essere come faccio a sapere che l'eredità è mia io se per esempio c'è uno zio che mi ha lasciato l'eredità come faccio a essere sicuro che l'eredità è mia devo sapere che è morto ma una volta che so che è morto e mi ha scritto l'eredità l'eredità è mia allora io mi assicuro che la persona è morta e gesù è morto davvero quindi se gesù è morto l'eredità è mia la garanzia che l'eredità è mia che gesù è morto e come ogni persona diventa erede dopo la morte che ne so del padre della madre di chi gli lascia l'eredità così io so che gesù è morto veramente per me e non solo è morto ha dato la vita ma mi ha dato anche l'eredità insieme alla sua vita che è parte proprio della sua vita e serve per creare la sua vita in me allora più leggo le scritture più mi leggo il documento del notaio che lo spirito santo meraviglioso se più io mi dico ma te rendi conto io da quando sono piccolo sono nato in questa famiglia magari e soffro tanto che ne so di di dubbi questa è l'eredità che mi hanno lasciato magari che ne so i miei parenti i miei antenati mi madre mi padre perché erano insicuri e così via quindi l'eredità terrena ma io ho scoperto che mo c'è un'altra eredità l'eredità spirituale dello spirito santo che mi ha lasciato gesù e quindi quella completa o ripara o corregge o addirittura riempie vuoti che mi ha lasciato l'eredità terrena quindi se mio padre mi ha lasciato i dubbi perché vorrei lo soffriva di dubbi pure lui ma io adesso non so più schiavo non so più condannata dai dubbi perché io adesso ho un'altra eredità io non so figlio solo di mio padre terrena so figlio pure di dio quindi ho due eredità allora se all'eredità terrena gli mancano le cose io le ritrovo in quella spirituale che me le dà gesù ma vi rendete conto quanto è potente sta cosa ecco perché qua dice la parola di dio che può edificare quindi non solo ti edifica e dare l'eredità con tutti i santificati vedete l'eredità è con tutti i santificati quindi l'eredità è per tutti perché gesù è morto per tutti e allora la sua eredità è per tutti quindi anche per te che stai ascoltando però ti dico una cosa bella se non c'è chi te l'annuncia tu puoi continuare a vivere per anni e anni semplicemente con l'eredità terrena che t'hanno lasciato i tuoi genitori dove ci possono essere delle cose buone che dio ti ha fatto insegnare attraverso loro ma ci possono essere cose cattive anche malattie magari che si portano avanti da generazioni dubbi tare ereditarie tutto quello che può venire dalla carne e dal sangue ma ti do una bellissima notizia non esiste più nessuna condanna per coloro che sono in cristo gesù perché perché sono in cristo gesù e stando in cristo gesù hanno delitto non soltanto all'eredità che gli può arrivare da dall'eredità terrena ma anche a quella spirituale e quella spirituale serve per riempire correggere santificare riconsacrare ridarti tutto quello che satana ti ha rubato anche attraverso un'eredità cattiva che ti può essere venuta da dalla tua situazione terrena quindi non importa che situazione terrena tu potresti avere tutto quello che ti serve lo troverai e lo ritroverai nell'eredità spirituale che ti è stata lasciata in cristo perché la parola di dio negli atti degli apostoli 20 32 o nella prima testa l'unicesi 23 dice che la parola di dio può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati beh a sto punto buttate veramente a leggere la scrittura e sappi quando dici ma st'eredità è per me sì perché perché gesù è morto cioè l'erede di dio è morto e quindi è morto per noi e ci ha lasciato la sua eredità per essere coeredi con lui nel fatto che lui è morto è la certezza che l'eredità è tua e lui te la vuole dare nella sua morte nel suo sangue che è il segno della sua morte c'è la certezza che lui ti ama ti vuole dare fare la sua eredità amen alleluia amen alleluia